Andiamo Simo! E ciao! Troppo corto! Vai! È duro di chi è? Ah, devi dargli bene sotto, però secondo me è in seconda, il terzo è troppo lunga. E no, era giusta, eh! Era giusta, però dovevo andare via! Ecco, cazzo che rotaglio! Io l'ho vista dopo, ho chiuso, mi ha fregato! Bravo! Oh! Ah, è passato qui! Perché c'è il fritto? Ha, ha, ha! Ah, ha, ha, ha! L'ho vista! Un'ho vista! eccoci qua oh non c'è verso questa qua non c'è verso non mi piace figaro e arrivo sempre corto però non gli ho dato io non gli ho dato io tanto per cambiare il cavalletto proprio il cavalletto peggio ancora e ha messo il cavalletto ho parcheggiato aspetta o su o da tagliarti sta radice guarda che appena taglio viene giù la ti viene addosso a te ce la fai tu a tagliare ma così te la tira addosso aspetta che lo chiudo se riesco insieme a Stefano e ho chiuso io a metà no vieni su solo che ho chiuso perché ti fa sparire e si torna indietro è stupido la prima volta ti chiede in terra l'appoggi appena la tocchi l'appoggi appena la molli tutta tua mastarda oh e via la terza volta eh eh già brutta guarda guarda però forse di qua perché è più mosso sì è molle ma non devi chiudere a metà perché se chiudi a metà ti resti lì la fossa dentro che traia ho ma a girare le balle ma eppure eppure riprova dai dai che ti prendo io vai entrare